Allora, scendo qui con una superficie, ok, e immaginiamo di usare sempre il comando scala e funziona anche su una superficie, dunque vado qui, scala, ok, naturalmente ipotizziamo che voglio aumentarlo di tre volte, naturalmente la superficie a differenza del solido non alla terza dimensione, dunque anche se io non metto qui, se metto scala uniforme, naturale che non mi creerà lo spessore, perché non può crearmelo, dunque anche se metto scala uniforme, a questo punto schiaccio, lui aumenterà di tre volte da 100 a 300, ma lo spessore no, perché non ha, dunque qua e là aumenterà di tre volte, passando da 100 a 300 e da centro, ma la superficie no, cioè lo spessore non può, perché la superficie non ha proprio spessore, vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.